Vincere bene Vincono tutti i due bambini Capito numero 5 Si presentano Pediciani Lorenzo e Sant'Re di Cesare e si preparano Tanasiana Lorenzo e Maggio Matteo Capito numero 5 Novenzi 55 kg Si presentano al tappeto 4 Pediciani e Sant'Re di Cesare A seguire Novenzi 60 kg Si preparano Al tappeto 4 Dolce Raffaele e Imran Danis Grazie a tutti Al tappeto 4 Al tappeto 2 Grazie a tutti. Grazie a tutti.